allora ragazzi questi sono i sei nomi degli ig got dobbiamo andare alla votazione chiedo un parere a partire da simo enzo r a scendere luca così sul secondo voi tra questi sei che il got a bel su enzo un po meno perché coinvolto quindi si astenga il got di instagram italia anzi i tre scusate non il got chi deve passare i tre che devono passare ma ok meglio di parte ma scusami se ti intervengo ma anche la motivazione andrei richiedo sì ma tanto non conta un cazzo perché io intanto faccio il sondaggio ne parliamo ok ok raggio vi ricordo che votate solo il vostro preferito e quindi non il preferito dei tre ma il preferito totale grazie potete votare anche due volte se non lo fate però ci fate un favore così sono un po più chiara posso iniziare io se è possibile no e sì sì perché enzo è coinvolto prego ok io voto enzuccio perché perché apporta dei contenuti bellissimi anche con i video soprattutto quello la col natale e no però vedi ma che c'è faccia finirlo faccia finire lo faccia finire per favore ma quando hanno messo quello di instagram a me è sottointeso che calcistico ragazzi ma è ovvio allora ma intanto ragazzi votate o non fatelo più prego eri finisca senza essere interrotto votate ragazzi non votate mai più ragazzi mi dispiace ma vi devo salutare proprio sul più bello no dice almeno qual è dice almeno qual è i tuoi tre simo allora secondo me gli autogol faina enzo dai ad i tre che porteresti in finale tu ma sì ma però così all'improvviso senza averci pensato bene va bene se votate adesso non votate dopo ragazzi per favore e rifiniti ciao simo intanto grazie mille vai live si no vai live no no ciao simo auguroni se non ci sentiamo prima grazie per la votazione prego eri scusaci grazie intanto a massi ribatto per il terzo mese abbiamo raggiunto il gol mo lo pago luca beh luca è uno dei giurati e quindi non lo so se luca vuoi aspettare che tanto sono i tre finalisti quindi poi sì infatti non do le motivazioni ti dico solo i tre finalisti dico secondo me faina manuela e yolanda azze azze quindi anche anche diciamo il tuo creatore tele raffa non sei perché guarda ti dico anche io se dovesse arrivare in finale non voterò rasse ma perché lui è bravo ma non parla di calcio ragazzi non mette mai niente non ci sono posto non ci sono storie fa una storia ogni sette giorni come fa essere l'instagram got allora mi dici voti di questi tre andre ma stai stanno finendo stanno finendo stanno finendo manfre e in generale c'è storie se posto o cosa tutto 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 io ti dico la verità io non guardo storie instagram da veramente una vita però io mi ricordo tele raff che spesso si dissa con mario mastrangelo in giro comunque scusa un secondo allora faina 121 voti tele raff 40 aiutatemi 46 manuelina 46 pareggio attenzione attenzione si fa pesantissima pesantissima gli hai scritti manfre sì 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 vai con gli altri tre 121 46 46 no te lo dicevo nuovo sondaggio chi intanto met se vuoi dire la tua chi porteresti in finale tra questi i tre ok ok allora gli autogol e il tuccio e gli olanda vuoi darci una motivazione grande me gli autogol perché diciamo li seguo sia su instagram che su youtube sono diciamo mi piacciono veramente un sacco votate ragazzi scusami perché mi fa morire gli olanda un po di parte perché ti fa napoli e mi piace perché è competente in ambito calcisti non che gli altri non lo siano però puoi dirlo puoi dirlo molto d'accordo quando sulle sue analisi e sulle sue riflessioni quindi per questo la premierei votate ragazzi adesso non fate mai più se avete già votato prima evitate di votare per favore però votate adesso non fatelo più anche se potete pezzi di merda luca l'ha già detto ma fre tu invece a me instagram mi fa schifo e boh per assurdo lo sappiamo che ti fa schifo sei andato su facebook per assurdo quasi quasi preferisco più manuela rispetto a tutti gli altri per assurdo che tra l'altro è l'unica che non seguo mi sa di questo però ragazzi gli autogol su instagram non mi piacciono proprio vi dico la verità c'è poi i video che però non mi domina per me sono i più forti imbarazzante faina pure tele raff lo vedo più da twitter non lo so se anche candidato su twitter vediamo eccolo se ss quindi lo voterò come preferito a twitter e iolanda ci sta anche se manuele la mia preferita di questa per assurdo vi dico questa cosa qua allora io invece vi dico il i miei secondo me sono sul calcio sono manuela assolutamente gli autogol assolutamente e tele raff per il mio punto di vista quelli che a me fanno diciamo per motivi diversi secondo me sono i più completi vi dico il mio punto di vista quindi iolanda è ultima enzo se facesse solo calcio secondo me sarebbe più forte però glielo dico da due anni e mezzo ma enzo vuol fare le canzoni col copra ci prova allora enzuccio 90 autogol 52 iolanda 30 e dobbiamo fare lo spareggio allora attenzione spareggio signori no 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 ho sbagliato io ho sbagliato io passano aspetta passano il turno e vanno in finale faina enzuccio e gli autogol così è deciso l'udienza è tolta reazioni a caldo ragazzi andiamo velocissimo sono quelli con più follower guarda che cosa strana ma no scusami posso parlare andrea ma tu lo sai tu lo sai io ti stimo io ti seguo ma secondo me col calcio il tuo profilo attuale non c'è semplicemente quelli allora ascoltami un attimo luca con e per una delle poche volte oggi farò il serio ok e voglio anche dirlo pubblicamente il pensiero che ho ok e te l'ho anticipato ieri sera su whatsappo quindi ragazzi clipate perché enzo serio è quasi impossibile averlo in diretta tra l'altro allora luca devi capire che io nella mia vita non do priorità al calcio ok io non mi sveglio la mattina con il pensiero di aprire gazzetta dello sport e leggere che cosa sta succedendo nel mondo del calcio non 24 su 24 ma buona parte della giornata penso al calcio ma non do la priorità ok come all'inter io all'inter non do la priorità io do priorità a dover pagare un mutuo ok ma che ragionamento ho capito io sono malato dell'inter ok perfetto questo non significa che io nelle miei social devo parlare esclusivamente di inter io nasco come provo a essere un comico del web provo a fare dei contenuti per far sorridere posso far cagare posso far sorridere poco importa quando io vado a parlare di inter i miei social e farlo solo ed esclusivamente quando l'inter gioca quindi o in champions league o il sabato o la domenica ok quando io decido di dover impegnarmi nel realizzare contenuti sul calcio ti assicuro che do il 100 per cento e ti posso dire una roba una cosa come il sopra di noi niente che ha rotto il cazzo è diventata virale quello che io ho diciamo percepito non si riempie al petto è perché quindi se io non parlo che youtube ieri mi ha scritto enzo non parla da sette mesi di calcio sui social perfetto proprio perché te l'ho appena giustificato ma ti assicuro che quando vado a creare dei contenuti penso di essere idoneo e quando io non voglio parlare serio sul calcio lo voglio io hai capito e io che non mi vado di fare se no però aspetta le statistiche no ma il punto non è quello che non ho detto che devi essere serie sul calcio per me poi poi anche non farlo mai il calcio però la domanda che viene fatta al pubblico e quali sono i tre migliori profili calcistici su instagram nel 2021 penso di essere abbastanza idoneo forse c'è luca mastrangelo al anzi forse un po di più mancano mancano delle persone quello però ragazzi posso dirvi una cosa a questa qua è la votazione che abbiamo fatto adesso su twitch che il canale diciamo nostro principale dove ci interessa diciamo parlare con la community l'abbiamo le votazioni l'avete viste tutto sono fatto in maniera trasparente è andata così ti dico lu è un pochino normale ed è il motivo per cui la parte finale l'abbiamo fatta fare una giuria diciamo nostra che chi abbia più seguito faccia prenda più punti è un po il mondo però posso dire una cosa a discolpa di enzo che tra l'altro ricordo che deve pagare il mutuo che comunque enzo piuttosto che damiano piuttosto che gli autogol ragazzi non stiamo parlando perché tutte le volte si pensa cioè non è che sono partiti che avevano tre milioni di fan e gente che nel n 2010 così magari quando gli altri dicevano che fosse una cagata si è messa lì e ci sono fatti il culo cioè gli autogol io mi immagino le porte in faccia che hanno preso ed è normale che magari a oggi raccolgono magari qualcosina in più ma perché negli anni sono fatti un mazzo del genere parere personale cioè nessuno nasce cuori faccia non siamo in televisione che uno diventa famoso perché fa un un ospitata diciamo gente che si è fatta negli anni in tutti i sensi magari comunque andiamo avanti per favore manfre con le altre nomination a me piacciono quelli che diventano famosi tra l'altro ricordo che gli autogol che non so quanti anni è che abbiamo sbagliato anche il nome veramente infante imbarazzante però allora got award di twitter allora qua ci abbiamo da parlare io questa questa twitter got farei il sondaggio oggi con voi ragazzi ma mi riserverei un po come lo dico prima di fare le votazioni dei tre anche il fatto di avere un'altra mini semifinale come diceva luca prima facendo un sondaggio su twitter e sentendo quindi dalla community di twitter chi vorrebbero anche se ti dico luca a quanto ne so io se non ricordo male c'è qualcuno che diciamo è twitter mi viene in mente penso penso enzo esatto piuttosto che anche gillemon ma gillemon è un po diciamo che su twitter calcio non è vista benissimo gillemon però no 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 però è gente che non è diciamo famosa su instagram perché noi poi c'è tutta la cosa su franco ordine che li commenta tutto ma è una persona vera gillemon pare di sì insomma c'è chi sostiene sia un fake e chi sostiene sia veramente una ragazza invitiamole luca tu la conosci no io no personalmente no e non sa se è vero o fake allora intanto hanno donato 100 bits e prova.jpeg e dice vi prego dategli a densuccio che sto piangendo comunque gente che si è emozionata prima enzo eh allora no no era per dire luca che comunque questi profili qua come Enzo 29 che so che è un po un meme su twitter anche se io proprio twitter non lo uso Enzo Arlotta sì sì un meme e gillemon sono dei profili che secondo me seppur avendo sbagliato diciamo facendo il post su instagram sono usciti probabilmente sono quelli che sono talmente forti che vanno arrivano anche su altri social no? sì sì no quelli sbagliati qua secondo me sono sia Biasin e Longari che sono giornalisti ma che diciamo è ovvio che siano seguiti perché sono giornalisti ma non c'entrano molto con twitter calcio ok twitter non ne parlano di calcio su twitter sì però Harry la vera twitter calcio come dicevo prima è quella che fa sarcasmo ironia che usa il gergo di twitter non quello che scrive oggi arriva Dumfries cioè quelle giornalisti Biasin fa un po' e un po' eh secondo me Biasin sì un pochino hai ragione Biasin è molto vicino secondo me invece ci sta ma non tanto per come usa twitter che ripeto io non lo uso ma per come Biasin secondo me usa instagram cioè che lui su instagram ragazzi posta gli stati di twitter quindi ti viene secondo me subito da associarlo eh magari è stato per quello solo per il calcio grande fabbri prego met volevo staccare volevo salutare tutti eh ti volevo fare proprio l'ultima domanda per quanto riguarda la votazione non è che ci ho capito molto per quanto riguarda sia le storie che il posto cioè alla stessa valenza la votazione oppure no la votazione adesso la facciamo su twitch eh diciamo eh abbiamo i sei candidati su instagram adesso con quei sei candidati dopo questa qua di twitter andiamo sui tic vabbè però Matthew tu sei venuto ti sei fatto vedere dai ma la gama mette il nuovo super allan? non lo so Matt secondo me è molto meglio secondo me è molto meglio quanti anni hai Matt? 22 e quanti anni ha Luca Giova? 25 25 anni super allan? non sembra più grande io non ho 17 ma a Manfredi sostiene Matthew perché gli ricorda i suoi capelli da giovane si doveva fare un documento google come ha fatto Omietto e farlo già sui social in modo tale da ricevere tutti i voti delle comuni così facendo ovvio che vengono proposti i votati e votati i partecipanti sulle vostre live può darsi può darsi sarà un bel modo ragazzi tra l'altro Andre è veramente un cavallo la prossima volta ciao Matthew grande simpatico ma non tiktoker? si sai non fare così Luca vabbè vabbè dai fai schifo dai ma che stai? quindi è un competitor no Luca? no io assolutamente ho chiesto non volevo chiedere live ragazzi comunque vi dico una roba noi a inizialmente cioè per chi ci segue non diciamo da adesso ma dagli anni scorsi noi abbiamo sempre fatto gli Oscar e li facevamo però se vi per chi magari qualcuno ce lo ricorda autoreferenziali alla nostra community secondo me da quando abbiamo iniziato a fare il podcast su Twitch cioè la gente è come se da fuori ci cioè ci danno più credito di quello che abbiamo cioè noi non è che pensiamo di essere i demiurgo di Twitch Italia sportivo e di dare i voti a tutti cioè il nostro era cioè se viene qualcuno della nostra community per rispondere un attimo a Fede che ha detto una cosa bella che ha fatto prima riferita a quello di Ometol cioè Ometol penso che sia 4 anni che su Twitch ci sta che faccia una roba del genere noi ragazzi ho 3 mesi 4 adesso quindi magari tra l'altro il documento Google lo usiamo per i giurati quindi alla fine lo useremo anche noi no a loro dicevano per fare le candidature però noi quello che volevamo fare all'inizio era un pochino cioè volevamo fare un pezzo in più di quello che avevamo fatto l'anno scorso però è content per la nostra community cioè non è noi non siamo la FIFA che tra l'altro sbaglia i sorteggi e non gli rompe nessuno il cazzo e viene pagata ok? ma scusa chi sono i giurati? i giurati sono 25 25 tra creatori di contento vanno da Luca c'è Biasin c'è Romano gli autogol anche gli autogol c'è proprio è molto eclettico abbiamo cercato ma come gli autogol? ma non si possono autovotare ma che roba è? eh ma noi non sapevamo chi guarda che Luca potevi esserci anche tu tra i candidati ma no io ho incentivato proprio a non votarmi perché volevo essere imparziato comunque tutto nasce da un fungo preso da Santo Stefano quindi non guarda che più o meno il pallone d'oro è come a dire che il giornalista italiano non dovrebbe votare Giorginio ma alla fine cioè che ragionamento è? capito? però il giornalista non è Giorginio che si autovota eh ma è lì stiamo lì vabbè ragazzi un voto si autovotano eh allora andiamo Luca parti un attimo tu che ci fai un attimo una desamina di chi vorresti in finale di questi eh prendo gli unici veri di tweet Renzo Gillemon e Raff gli altri secondo me sono inadeguati neanche Biasin? no però tre e quattro devo lasciarlo pure ok allora è partito il sondaggio ragazzi votate il sondaggio per favore adesso mai più allora io sono sono un ignorante di twitter come di molti altri social e quindi Enzo non lo conosco proprio penso che quando l'avete messo Luca lo puoi presentare un attimo Enzo per chi magari non conosce twitter pensavo fosse addirittura in succio è un meme è un meme su twitter diciamo che per fartela capire è come Rass per il Milan su twitter C'è in super l'inter ah ok io per non conoscenza voterei Raff Gillemon e Biasin perché secondo me Biasin fa invece un po' e un po' qualche cosa qualche battuta qualche notizia e poi mi fa abbastanza schifo quindi lo voto salutiamo tra l'altro Fabio che lo devo chiamare oggi all'uno allora dovresti votare anche a me in precedenza se facevo schifo scusami ma è uno schifo diverso forse non lo so sarà allora votate adesso c'è qualcuno che è esperto di twitter qua Tolto Luca Andre tu sei esperto un po' di twitter ma io quando facevo sbandati anni e anni fa io ovviamente penso che il ragionamento di Luca sia lecitissimo ne ho letti una marea anche su twitter perché comunque l'ho seguito quando abbiamo messo il posto visto che tanti si sono lamentati e devo dire che per dire un termine web che ha cambiato quindi anche la sua connotazione che se devi nerdare su twitter probabilmente il profilo di Biasin di Schira piuttosto che quello di Longari sono dei profili che assomigliano un pochino di più a quello di Romano a quel punto lì a quello di Di Marzio e quindi dei profili infatti Longari e Schira erano candidati anche lì certo quello che volevo dire è che capisco il punto di vista di Luca che è un po' come dire per fare un esempio Biasin sta a Enzo dico questo qua di twitter un po' come gli autogol sta a Anna Manuelina cioè che non è che non sia forte però diciamo che non è natio di quello giusto Luca? giustissimo tutto perfetto allora in tutto questo vi faccio notare che Faina ha due candidature poi vabbè andiamo avanti scusate se vi disturbo ma a Estedmire Stadium tra Southampton Tottenham 1-0 Southampton con Watt Pro si sta perdendo conto e ma Luca già gioca ha giocato due giorni fa è la Premier League e oggi e domani allora allora Manfred se intanto puoi scrivere per favore 62 voti per Enzo 49 per Biasin 18 per Schira si vai a me Schira sta molto simpatico allora ok lecito se vuoi dire conosci anche gli altri le usi te twitter? no veramente poco veramente veramente poco seguo solamente Prodizio Romano per guardare la notte di calcio mercato d'estate non è twitter anche twitter io lo seguo su twitter secondo me il 90% che sta guardando la live usa twitter per capire se è instagram whatsapp in down assolutamente Enzo però secondo me quello che dice Luca e ripeto che secondo me non lo dice per rompere il cazzo ma lo dice per dare credibilità al voto è semplicemente che cioè è capito è come se uno parla di reddit porca puttana ed è perché lo vede qua da noi e non perché si alza la mattina e va a vedere come faccio io i reddit sportivi e trovi una marea di figate e ovviamente ormai sono talmente tanti i mondi che probabilmente c'è uno c'ha anche una vita deve cagare mangiare chiavare quindi non è che può vivere su internet H24 no no è una questione di preferenze io ad esempio preferisco passare un'ora a guardare twitter che tiktok è una questione di preferenze io non faccio nessuna delle due e sto bene però capisco probabilmente anche io preferirei twitter tiktok con tutto il rispetto allora ci stai come assolutamente ma forse anche per età se tiktok ti inizia a pagare vedrai che farei come me allora votate ragazzi gli altri tre finalisti longari raff o gillemon tu guadagni bene da tiktok perché per esempio al creator piccolini cioè non si guadagna nulla nulla io da quando faccio i video su tiktok lo dico pubblicamente ragazzi stiamo un attimo su twitter che così luca se puoi rispiegare un attimo i profili di raff gillemon per chi non conosce visto che longari è del canale ci andiamo su tiktok raff raff è il rass della fossa diciamo però è il rass vecchio stile quello che lui faceva su instagram quando era attivo lo scrive su twitter oggi gillemon è questa ragazza molto emancipata che fa dei tweet abbastanza spinti che richiamano ad esempio franco ordine io infatti ho votato gillemon con passione vediamo se si alza gillemon visto questo endorsement da parte di luca e mio ma ragazzi con la y voglio proprio vedere secondo me è un fake ma no fa pure che non pubblica fa pure all'infanzia si forse anche un no no non ho approfondito diciamo però ma è una femmina sicuro ma secondo me no raga è fake non è no Harry non come fai a saperlo chiedono in chat ma se c'è all'infanzia grande ritorno di gillemon attenzione attenzione grande ritorno di gillemon che sta per quasi prendere l'ongari no raga è fake però vi dico non è non è molto ben vista su twitter se come fotoprofilo fa vedere solo il seno non la faccia è normale che uno pensa male ho capito c'è anche degli uomini che fanno vedere magari i pettorali ben venga cioè se avessi io i pettorali li farei vedere no 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 sicuramente però vabbè attenzione abbiamo un abbonato a holy fan tra l'altro lo salutiamo schlarrer 95 bene sentiti con Harry no è iscritto al suo di gillemon ok allora ti dico i voti raff 75 voti l'ongari 52 gillemon 34 è fuori è stata tosta questa prego prego però mi piacerebbe contattare sta gillemon no no per venire in live calma calma manfra basta manfra ci dice ci dice ci facciava bene come fuori un attimo enzo silenzio i finalisti del god di twitter sono raff enzo e udite udite perché scavalca biasin sullo scadere l'ongari no luca parere tre voti tre voti l'ongari su biasin dove cazzo c'è la instagram questa vabbè due su tre due su tre tre i sei sono giusti dai diciamo che probabilmente oh jean comunque ragazzi ha 78 mila iscritti su twitter se non sbaglio lo stavo guardando ieri ma come seguito ovviamente i giornalisti sono molto seguiti non ce l'ha instagram enzo sta cercando l'instagram non ce l'ha andiamo avanti qua ragazzi rimarremo che faremo anche un sondaggio su twitter ovviamente per magari trovare un altro che magari invece è il preferito di twitter come avremmo dovuto fare all'inizio come faremo magari per l'anno nuovo andiamo sugli altri manfra per favore che ne abbiamo altre due categorie da votare categoria sei pronto? andiamo a prendere la pillola allora andiamo direttamente coi voti anche qua ci potrebbe essere un ripescaggio perché io che cosa ho fatto da gran bucchino quando ho capito l'errore senza dire troppe robe su tiktok sul nostro tiktok ho fatto un video dove chiedevo di suggerirci i migliori ce ne avete detto qualcuno che l'abbiamo contattati manfra dovevano venire anche oggi in puntata che sono come si chiamano Simo Inter Giaio 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 Arsanto si e ce n'era un altro anche molto le piacerebbe venire ma oggi non poteva aspetta che vi dico l'altro qual era che il ragazzino interista che era venuto anche qua da noi Simo Inter e l'Italo e l'Italo e il ricciolino mezzo argentino o mezzo napoletano quindi anche per loro lui è il vero gotti tiktok sinceramente lui è il vero gotti a mani basse attenzione attenzione beh no potrebbe esserci adesso andiamo in finale di questi tre qua poi dall'1 al 2 2 al 3 4 scusate definiamo anche questi qua che sono piccole cosettine da mettere a posto chi vorreste in finale allora questi sono i nomi di quello che è il risultato da Instagram no questo è il marketing Manfred torni quella dietro per favore allora Matthew che l'avete appena visto non sembra lui Matte Isu calcio Cavalieri Isu calcio e no perché faccio prima quelli di sinistra poi quelli di destra sarebbe contento Faino con due ragazze che sfida impossibile allora via votate ragazzi io ho appena reso like una foto già da Cavalieri che no ecco io voglio dire una cosa posso dire una cosa nel frattempo certo allora io so che magari sono una persona antisportiva che su tiktok porta contenuti di pessimo gusto perché se non vi piace Ronaldo sono un rompicoglioni assurdo però vi chiedo di vedere lo sforzo che il singolo creator fa per portare i contenuti quindi vi chiedo non solamente di guardare ah ma lei c'è la figa di fare il solito italiano medio di dire ah ma lei c'ha le tette e andare dietro così provare a dire vediamo chi è che veramente si impegna fa live porta sì ma non devi non devi autoproclamarti da solo fra sbagli no 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 dico che oltre alle tette votate ragazzi ma infatti ho messo secondo me il fatto che tu hai inventato il personaggio che Ronaldo sopra di lui niente e secondo me fra Andre parlo con te secondo me è una bella schiz è un personaggio secondo me hai avuto una bella una creatività quella di Luca di mettere grazie mille intanto agli autogol ragazzi benvenuti gli amici degli autogol che ci hanno fatto il ride e l'host autogol con la scritto bene rollo rollo allenati bene vergognati non mi interrompere più sai mai allora siete in finale lo fa schifo allora salutiamo gli autogol autogol siete in finale del The God Awards che ci tenevate tantissimo gente mi ha sentito Michele stanotte che mi diceva grande sono teso per le finali siete in finale non vi preoccupate stiamo facendo i premi a tutte le figure diciamo del panorama calcistico e sportivo che non sono calciatori ma sono tutti gli addetti ai lavori gli autogol sono arrivati in finale manco da dire ovviamente nella categoria i gigot insieme a Faina e a niente popo di meno di Enzuccio io so che i fan degli autogol diranno grazie al cazzo abbiamo già vinto vedremo e 5 ci saranno e tra l'altro gli autogol saranno in giuria quindi voteranno anche loro anche io devo andare ci vediamo in 5 vabbè ci sentiamo prima speriamo bene sul gruppo ciao Lucchino ciao Luca buon anno ciao allora stavamo votando i tiktoker mancavano non so se avete votato ragazzi allora attenzione allora passano cioè passano adesso vediamo allora Matthew 97 voti Daniele Cabras 23 voti Isu 14 adesso facciamo gli altri 3 semifinalisti ricordo che se avete votato per uno potete votare per l'altro ma siete delle merve se lo fate gli altri 3 finalisti sono allora Luiz Tortelli Gia da Cavalieri e Ila Limelli chi volete lei è simpatica mi appare sempre sui su tiktok sì sì lei è simpatica siamo molto amici l'abbiamo anche fatto una volta ah allora quindi ti sta sul cazzo no un tiktok insieme un tiktok insieme vabbè vabbè ma fa bene fra scusami ma non lo dì ma non si dice non si dì ha letto un tiktok mi sono subito tutte le tue cavolate negli anni al praia lui non può dire ma mica lo dico live che mi sono fatta quella ma che cazzo me ne frega Massimo allora votate ragazzi gli altri 3 semifinalisti non guardo io non guardo ricordo che potete votare solo una volta potete farlo anche più di una volta ma siete un po' delle merde ragazzi prometto di che sarà più sportivo ve lo giuro sarà più sportivo ma tu non puoi avere più possibilità degli altri che ti proclami qua Ortelli ma che cazzo fai ma tu devi essere al pari degli altri Luca ora sarà più sportivo ma stai zitto sarà più sportivo allora facciamo entrare la Cavalieri e si sponsorizza che peso ma vai a fare in culo ma cos'è signor Ortelli si contenga si contenga signor Ortelli che cazzo deve fare non sei pugliesi dove sei voglio Abruzzo vabbè ma che si decide in base a ma che è questa discriminazione metto che sono più sportivo messi gotti lo dico signor Ortelli la devo munire veramente dai ma questo è pilotato stracciato il regolamento e io da organizzatore mi rifiuto di no allora Fube non mi mollare anche tu perché già ma che cazzo ma cos'è ma Ortelli ma si è fatto si è fatto una pubblicità clamorosa ma facciamo entrare le due ragazze per favore bravo vedi che fumo adesso io scrivo alla Giada e viene Giada certo vuoi che ti chiamo Ila ti chiamo Ila te la faccio arrivare allora non sapevo di essere un uomo ciao Giada qui stiamo decidendo il Goat Awards di TikTok e c'è un Ortelli che sta palesemente pilotando il voto se vuoi entrare ti mando il link ragazzi sapete che io lo vedo un po' come il pupillo Ortelli ammetto che è stato peggio della vita vabbè ma è finito il voto viva Fube allora attenzione siamo alla fine siamo alla fine attenzione calcio di rigore Tottenham è spulso Southampton come è spulso ma tutta la squadra è stato espulso è stato espulso adesso ce lo dice aspetta un attimo che è finito il sondaggio allora Ortelli 71 voti Limelli 64 voti Cavalieri 57 voti belli alti tutti vai 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 ce li abbiamo allora un attimo che c'è un'ultima ora prego è stato espulso San Isu per il calcio di rigore Tottenham è pronto a batterla Harry Kane lo seguiamo in diretta? eh certo sì che minuto che minuto Harry 41esimo minuto parte dal dischetto si dice dai fa la telecronaca aspetta e poi oh Harry e poi pareggio pareggio di Harry Kane tutti quelli che lo davano per via dalla squadra altro che Lukaku sempre lui l'uomo in più di questa squadra la bandiera del Tottenham 1 a 1 prego allora andiamo con la i tre signori che passano per Tik Tok e vanno alla finale dei Gotteward sono lo davano per via passano il turno Matthew Ilali Melli e Luca Ortelli che schifo ok raga scusate ha ragione Luca Cohen adesso io sono schieno di Luca Cohen chat no 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 Fube questo no e ho capito ma guarda ma cos'è esagerando cioè mantieni le distanze ok questo è il suo punto di vita quindi ho ragione io devi dire il sogno va avanti il sogno va avanti lui lo sa il sogno va avanti mi mette veramente è come quando c'è l'amante di fronte a tua moglie c'è la chat che mi chiama però dall'altra parte c'è Ortelli allora ok perso praticamente la dignità per questo andiamo all'ultimo per favore Manfre se ce l'hai allora ricordo un attimo attenzione ricordo un attimo che per quanto riguarda Tik Tok visto che abbiamo avuto dei problemi l'abbiamo fatta su Instagram potrebbero esserci altre una barra due figure che aggiungiamo e quindi diciamo che non sono tre candidati ma sono 4 barra 5 ok prego allora ultima categoria che trattiamo oggi sono i goat del marketing abbiamo la presentazione di Locatelli quella fatta con come si chiama aiutate come come si chiama buon figlio buon figlio buon figlio quella del Milan con i Ghostbusters poi abbiamo il Nikeland Roblox che non so assolutamente cosa si chiama leggo come scritto abbiamo quella dell'Inter con il Montclair quella del Venezia con la K come dimenticarsi e le scarpe vegane dell'Adidas contanto di Pogba che le mangia ecco quale sia categoria in gara ok quella dell'Armani vabbè ragazzi qua posso dirvi una cosa noi abbiamo un pubblico che è abbastanza formato perché è un argomento che trattiamo spessissimo ho capito che manca quello lì si vede che è stata votata di meno però mancava anche Mr. Day io con la maglia della Juve allora prego ragazzi votate aperto adesso il sondaggio chiedo a Ortelli partendo da Ortelli a scendere da Enzo qual è quella che preferite voi quella di Juve Camilane senza ombra di dubbio collega Enzo ma guarda ti dico rimanendo sui social io premierei i cabi poi uno non deve essere di parte no voto Moncler ragazzi Denzel Moncler si Amfris si 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 Franci te chi voti uno o tre scusami una no no scusate mi sono espresso male no 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 Luca ripartiamo sono le tre che vorresti in finale non quella che preferite mi sono sbagliato io certo che te le faccio rivedere votate intanto voi ragazzi vai Luca allora per i social come diceva in Tuccio anch'io c'è cabi con cabi con la Juve per bellezza io mi sta che sono molto tentato di prenderlo un Inter Moncler è una collaborazione che mi ispira veramente tanto io ragazzi ripeto sono Juventino ma indosso volentieri le cose dell'Inter perché c'hanno delle grafiche che sono veramente fighe e e poi dato che c'ho la sorella che è molto per il pianeta e li voglio bene dico Nike vegane dai con Pogba subia che comunque è Adidas cosa che non direbbe nessuno non lo direbbe nessuno è Adidas con i commenti commenti di persone ignoranti è Adidas Luca è Adidas non è Nike è Adidas esatto io è Adidas esatto i commenti io faccio veloce cabi Moncler e il Venezia io invece K toccava a Franci no rispettiamo la fila rispettiamo la fila signor Carrero allora voi purtroppo siete tutti dei boomer quindi non conoscete neanche cos'è Roblox bravo Fubbe bravo Fubbe cioè noi gli indichiamo la luna e questi guardano il dito io voto primo posto Nike per Roblox un altro livello poi sono Juventino quindi ci metto Cabi Cabi con Loca e l'Inter Moncler allora Nike ragazzi io vi saluto che devo andare a portare ci vediamo dopo ciao buonasera da tutti ciao ciao ma dovete andare Enzo Enzo dove devi andare un attimo scusami devo andare a pagare la rata del muto porca troia se tu ti sei alzato stamattina con questo pensiero se ne va con questo incredibile allora Manfred ti dico i voti per il momento allora Godbuster 69 voti presentazione Juve 51 voti Nike Roblox 14 incredibile incredibile hai visto sono tutti boomer nessuno è colto come voi ragazzi allora però ragazzi Nike praticamente i Roblox che penso che sia il metaverso oggi più vissuto soprattutto dai ragazzini ha fatto questo Nike Land che per chi non conosce Roblox ha vari diciamo come livelli quasi dei micromondi dietro e Nike ha fatto il suo store online lì dentro per vestire le persone che quindi secondo me è una mossa devastante però siamo ancora qua a parlare di ehm ma non neanche di Moncler proprio di di placement siamo al medioevo al medioevo però va bene così andiamo avanti allora Manfred se puoi ricondividere Instagram perché non lo posso condividere io che toccava Harry dire la sua ma non perché l'abbiamo detto noi adesso no 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 già prima l'avevo in mente di votarlo K e poi Adidas te Manfred ma io a me è piaciuta molto la la presentazione di K del Venezia e molte cose le ignoro e sono contento quindi mi tengo quella ecco degli altri so poco quella di Kabilan mi fa assolutamente schifo a prescindere e non perché Juve ma perché cioè vedere quello che fa così mi ha veramente rotto i coglioni tu sei proprio un boomer sei eh ma ma chi che ma non me ne fotte un cazzo del tuo parere Fube di 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 finto giovane futurista ma chi se ne fotte che guarda il futuro Nike Roblox ma vaffanculo allora K Venezia ok io invece dico eh personalmente vabbè Nike Roblox l'ho detto che secondo me è la più figa di tutte dopodiché eh apprezzo molto perché comunque tutto il mondo dell'industria va su Adidas su diciamo tutta la parte vegana e ci vogliono le palle perché ti prendi un treno di merda ancora prima di uscire col merchandising bravo e sicuramente la più mainstream che mi è piaciuta tantissimo anche a me come tra l'altro ce l'avremo perché ci ha lasciato il contatto come il Venezia invece ha seguito tutto il lancio del marketing secondo me hanno fatto un rebranding della proprio monumentale un po' come quell'intermedia aveva fatto un anno e mezzo fa indicativamente a mio modesto parere quella della del Milan non mi è piaciuta sinceramente anche se ci abbiamo avuto qua come ospite il loro capo della comunicazione ma l'ho trovata anche una roba pochino cringe da vederci quando vedi i calciatori se una roba del genere l'avesse fatto qualsiasi creator tipo i mates sarebbe venuto giù internet per le meme viene fatto da dei calciatori ed è figo ok va bene mentre per le altre due adesso mi ricordo quali sono ah Cabilame come sono i voti ma se li dico allora i voti sono aspetta che stanno finendo allora tac allora K Venezia 63 voti aspetta aspetta ok Inter Moncler 57 Adidas vegane 7 ah ok ok ce li abbiamo è stata combattuta questa allora in finale per quanto riguarda la pa dami sono live ancora bro ma stia finendo vai vai aspetta damiano vai manfra scusa allora in finale per il del marketing arrivano aspetta che mi sono perso eccolo qua la presentazione di Inter Moncler il video di AC Milan Ghostbuster e infine la presentazione della maglia del Venezia con K così è deciso l'udienza è tolta ragazzi di che eccola c'è eccola in l'udienza l'u